buongiorno buongiorno e ben trovati a tutti siamo di nuovo qui questa domenica trentuno gennaio a storia di Napoli io sono Francesco Livolti e come sempre vi accompagnerò in questo viaggio nel passato e oggi abbiamo come ospite niente poco di meno che il professor Vincenzo Fischetti buongiorno professore buongiorno io ho scritto Vincenzo anche se tutti mi conoscono come Enzo Fischetti assolutamente assolutamente già ho trovato difficoltà semplicemente a scrivere il nome è vero sono testimone abbiamo trovato diverse difficoltà infatti ci scusiamo anche per il breve ritardo ma ne varrà la pena perché questo viaggio di oggi che il professore ci accompagnerà è molto interessante perché non è un argomento in realtà che viene sviscerato molto ma le televisioni eh private e soprattutto quelle campane eh hanno sicuramente dato un eh un grande fascino a alla città di Napoli e ai suoi personaggi iniziamo subito con un un personaggio che eh chiaramente la la storia l'ha fatta ma non solo in in tv ma anche eh nelle pellicole chiaramente i vari Totò Edoardo professore due parole giusto per eh dare adito e comunque il giusto peso a certi persone certe persone ma come si fa a parlare di Totò e Edoardo in pochi minuti insomma anche qui poi facciamo faremo vedere c'è una biblioteca sterminata su interi libri su Totò e su Edoardo certo loro sono stati proprio gli antesignani se vogliamo rimanere nell'ambito della televisione a parte Totò che si è dedicato molto di più al cinema ma i suoi interventi a livello televisivo vengono ricordati il famoso sketch eh che so io Pasquale oppure quando andò ospite a studio dieci con eh Mina eh De Filippo fu proprio il primo che capì l'importanza della della televisione e fece registrare eh tutte le sue commedie eh alla RAI e probabilmente queste eh restano ancora oggi adesso le facciamo vedere un attimo ecco queste sono tutte le cassette praticamente con le opere eh che Edoardo fece registrare alla RAI proprio per lasciare una testimonianza forse per coloro che praticamente non potevano permettersi di andare a teatro. È vero il fatto che Totò fu anche cacciato dalla RAI per un periodo perché ma guarda pure Enzo Tortola quanti sono stati cacciati dalla RAI? Probabilmente era dovuto al fatto che all'epoca la RAI eh era usando una felice espressione di Aldo Grasso un famoso critico del Corriere della Sera eh sulla televisione era ingessata praticamente addirittura c'era un insieme di parole eh persino la parola deodorante non si poteva pronunciare in televisione quindi il fatto che Totò sia stato tra virgolette cacciato non non deve sorprendere più di tanto. Assolutamente assolutamente ma passando da un napoletano come Totò eh andiamo a un Avellinese eh uno che eh è arrivato da Avellino a Napoli e ha fondato la prima televisione privata eh campana. Stiamo parlando di eh Pietrangelo Gregorio. Sì che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa e e anche se il comune di Napoli si è ricordato di lui De Magistris lo ha ricordato con una targa, una medaglia. Sì perché quando si parla di tv private tutte fanno nascere le tv private dalla famosa telebiella nel settantaquattro. In realtà lui già anni prima e io ho diversi libri qua che possono testimoniarlo tra cui questo che praticamente parla della storia eh ecco eh delle tv locali. In realtà lui più che una tv locale via etere fondò la tv via cavo. È stato il primo nel senso che lui praticamente con un cavo andava casa per casa della gente e mandava in onda diciamo dei film degli spettacoli delle cose ovviamente tutto pre-registrato. In realtà la televisione locale è nata all'inizio degli anni settanta molto prima di telebiella grazie a Pietrangelo Gregori assolutamente. Ma eh come mai Pietrangelo Gregori ha voluto perché poi la la storia la conosco nel senso ehm c'ha eh diverse sfumature perché il il buon Gregori comunque ha voluto creare questa tv grazie comunque alle pubblicità del looping. C'è una c'è un legame. Sì e chiaramente le i primi sponsor che anche qui si crede che siano state le tv commerciali di Berlusconi ma lui già aveva aveva i primi aveva i primi sponsor. Lui veniva chiamato lo scienziato pazzo perché lui in realtà poi era un inventore non della tv locale. Lui aveva inventato vari eh vari marchi ingegni che alcuni avevano a che fare con la televisione. Altri non avevano niente a che fare una sorta di Leonardo da Vinci diciamo moderno e naturalmente veniva chiamato questo scienziato pazzo che già aveva eh degli sponsor e già attraverso dei cavi e riusciva a arrivare a casa delle delle persone. Un po' come quello che i cavi che mettono oggi per strada di della team di fast web insomma la 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 cosiddetta fibra ottica per rendere più veloce internet. Lui eh aveva questi cavi per eh la televisione locale arrivava a casa per casa della gente. Quando a volte si dice un programma lo fai casa per casa. Ecco lui lo faceva così. Sì ehm il ventitré dicembre del sessantasei se non sbaglio va in onda la prima puntata di eh Tele Napoli attraverso appunto queste eh pubblicità ben ben quattro cinque anni prima rispetto alle tv private eh del resto di Italia. Che poi quella Tele Napoli non è da confondere con quella che poi successivamente si sarebbe chiamata Tele Napoli canale 34 che quella è diciamo e poi tutta tutta un'altra cosa insomma perché lì c'era tutto un altro direttore tutto un altro staff Tele Napoli quella che eh per intenderci trasmetteva eh ha trasmesso successivamente pirati avanzi popolo stava a Dagnano c'era il dottor Germanisi come eh titolare di quella di quella emittente. Sì e ma il eh perdonami la Tele Napoli a cui ti fai a cui fai riferimento tu nel senso eh quelle quelle trasmissioni che hai citato. Sì. Eh come esempio pirati eh sono sono trasmissioni che hanno cresciuto vere e proprie generazioni. Sì vabbè quelle sono arrivate diciamo molto dopo perché noi con Gregori stiamo parlando anni settanta. Tutto è detto sessantasei quindi addirittura stiamo parlando almeno di di trent' anni prima. Sì quelle diciamo sono trasmissioni che sono nate sull'onda del successo di un'altra emittente che era Canale 9 che all'epoca non so se te lo ricordi si chiamava Teleoggi. 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 Teleoggi Canale 9 che trasmetteva Tele Garibaldi che che a sua volta deriva da un'altra trasmissione che presentavano sempre Allan De Luca e Lino D'Angio che si chiamava. Ibaldi possiamo dire è stata la prima e poi diciamo Canale 9 ne ha fatte tante altre tra cui Ciaccati o Rippo Rap eccetera e anche Tele Napoli poi diciamo sulla striscia di questo successo ha fatto appunto sia pirati che prima ancora avanzi popolo e poi successivamente pirati e praticamente poi lì ci sono quasi tutti i comici che ancora oggi operano sia a Made in Sud anche se poi Made in Sud essendo una trasmissione poi recentissima ha lanciato altri e nuovi comici. Certo e si sono anche avvalorati hanno ancora dato maggior adito a loro alla loro bravura molti altri comici che avevano fatto la storia proprio in quei programmi ma infatti vorrei un attimo rimanere sulla questione di Pietrangelo Gregori perché comunque c'è un aneddoto effettivamente unico che prima mi stavi raccontando prima di entrare in diretta ovvero il fatto che a Sanremo durante 74 ci fu un periodo che diciamo Sanremo dopo un boom iniziale degli anni 50 e 60 e cadde un po' nell'oblio negli anni 70 infatti se anche se vai a vedere il cosiddetto albodoro i vincitori del festival di Sanremo praticamente Pietrangelo Gregori andò con le sue telecamere a lì a Sanremo gli diedono il permesso lui filmò le prime due serate chiaramente non c'era la diretta non c'erano però lui naturalmente registrò tutto e con le cassette poi le portò a Napoli tra l'altro a colori c'era dire che è già anche se la tv a colori non c'era ancora lui le registrò a colori la gente da casa le vedeva bianco e nero e registrò queste prime due serate insomma che ce l'hanno oggi soltanto la RAI che chiaramente anche se non trasmetteva l'evento in diretta lo registrò e praticamente tele Napoli dell'epoca che grazie a Gregori aveva queste immagini è un qualcosa di incredibile emozionante effettivamente no il fatto che solo a Napoli hanno potuto vispedere le prime due puntate di esatto le prime due serate le cosiddette eliminatorie come si si chiamavano all'epoca ma già all'epoca c'erano in televisione diciamo tutta una serie di personaggi ecco ancora una volta l'originalità di Napoli cioè quando negli anni settanta Telebiella iniziò poi a trasmettere tante altre e sorsero tante altre televisioni locali in campagna ricordiamo anche tra le televisioni scomparse Telestudio 50 Telecasoria 44 insomma tutti emittenti che oggi non ci sono più però già c'erano canale 9 canale 8 Tele Napoli canale 21 soprattutto che poi diciamo se andiamo a vedere oggi i dati di ascolto resta la la più seguita già c'erano personaggi diciamo originali che forse non si riscontravano in nessun'altra parte d'Italia io vorrei ricordare forse questo tu lo ricorderai al nord c'era il mobilificio a Iazzone che pubblicizzava questi mobili e c'era Guido Angeli che faceva la pubblicità di di questi mobili ma non era lo spot come lo intendiamo oggi noi di 15 20 secondi era una pubblicità che duravano ore e praticamente l'equivalente qui in campagna di quegli spot era concetta mobili che era praticamente questo mobilificio che si trovava sulla via Appia Casapulla Caserta e dove diciamo c'erano dove andavano tutta una serie di ospiti che si spostavano in questo mobilificio da una camera da letto all'altra una cucina e facevano la pubblicità e più famoso resta Mario Merola il quale nella puntata dedicata a concetta mobili che poi lei è scomparsa proprio nel periodo d'oro mentre faceva questo tipo di pubblicità eh Mario Merola in una famosa puntata fece un elogio a a concetta mobili cantando una canzone scritta eh proprio per l'occasione per la scomparsa di concetta mobili che si chiamava non è cagnate niente cioè come per dire la la tua morte non non cambia per niente il il tuo valore e il tuo mobilificio è qui e noi andremo avanti ma è la canzone era non è cagnate niente c'è Bernardo Piccone che chiede il canale 21 ora trasmette anche da Roma il canale si è trasferito non è più napoletano no no trasmette sempre da trasmette da Agnano eh una strada che che collega Agnano con eh Pozzuoli non quello mi pare che si chiama eh comunque dove sta la solfatata sarebbe quella strada di Agnano dove stanno tutte le concessionari di automobili a destra e a sinistra insomma quella strada lì Giuseppe Barbato che fa un gioco di parole dicendo i nobili concetti di concetta mobili nobili sì eh era una così eccezionale quella quella trasmissione senti ma tra le tra le tante trasmissioni che si sono ehm diciamo sono iniziate grazie hanno iniziato grazie ai canali privati ci ne sono alcune che hanno lasciato il segno secondo te ma diciamo sempre se rimaniamo nel nell'ambito delle televendite e diciamo il oltre a concetta mobili c'era la dottoressa Alma Manuela Tirone che è stata diciamo poi la prima a pubblicizzare diciamo questi prodotti non solo di bellezza ma anche per la salute attraverso le sue famose alghe queste alghe benefiche che insomma avevano poteri miracolosi insomma sulle sulle persone e poi diciamo a un certo punto la stessa guardia di finanza cominciò a dubitare eh di questi effetti anche perché poi tutto sommato erano dei medicinali e le trasmissioni furono interrotte anni dopo un quando Marcello d'Orta pubblicò il secondo libro eh non io speriamo che me la cavo il secondo che si intitolava Dio ci ha creato gratis c'era un tema di un bambino che si ricordava di questa Alma Manuela Tirone la chiamò testualmente scurnacchiata ci lei citò il maestro d'Orta Alma Manuela Tirone eh citò in tribunale il Marcello d'Orta e il tribunale diede ragione a d'Orta dicendo che scurnacchiato non era eh diciamo un termine eh anche se vogliamo dire un pochettino volgare però aveva ragione perché rendeva bene l'idea di queste pubblicità che tutto sommato erano ingannevoli eh sì è un fenomeno questo qui del sì 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 no ma poi diciamo che poi questa dottoressa è venuta alla ribalta di nuovo anni dopo grazie a questa causa che si è tenuta in tribunale ah ecco perfetto senti c'è un una trasmissione che eh secondo me ricorda molto eh un un programma che potrebbe essere tranquillamente visibile sulle visibile sulle reti RAI ovvero il tormentone di Angelo Manna non so se anche gli altri era qualcosa di eccezionale perché eh Angelo Manna e lo diceva lui in trasmissione chiaramente diceva che lui era di di estrema destra e quindi praticamente trattava tutti male a male parole e cose eh un giorno eh mi ricordo lui ha ricevuto una lettera chiaramente siamo negli anni ottanta non c'erano eh i messaggi gli sms whatsapp lui riceveva le lettere praticamente proprio manualmente un uno spettatore scrisse lei si comporta in questo modo in due casi o perché non riesce a fare l'amore o perché ha l'eiaculazione precoce uno di questi due casi e lui testualmente disse senta per rispondere a questa domanda mi mandi eh sua sorella così lei le riferirà con precisione e quindi questo per far capire il personaggio e le le parolacce insomma che che lui diceva ti vedo in difficoltà non è che sono stato volgare no? No 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 assolutamente e diciamo e questo era il genere della trasmissione poi lui criticava tutti i sindaci diciamo quelle che erano all'epoca i governatori il governo centrale tutto tutto e c'erano lui e un altro giornalista che si chiamava Alfredo Traetta Debiuri che aveva questo eh che aveva questo nome nobile che le che è un altro personaggio singolare lui da studio leggeva il telegiornale poi un certo lui diceva facciamo partire il servizio e il servizio l'aveva fatto stesso lui ah ecco quindi tu lo rivedevi nel servizio diceva guardate questa è via Salvatore Rosa eh le fogne non funzionano poi torniamo in studio ecco e adesso spostiamoci a pianura eh facciamo partire il servizio usciva un'altra volta lui cioè lui faceva sia da studio che tutti i servizi tutti e quattro cinque servizi che andavano in onda all'interno di quel telegiornale faceva tutto lui è stato qualcosa di eccezionale guarda eh senti abbiamo un po' di domande eh allora Luca Luca di San Luca come si chiamava il duo che a canale ventuno diceva che squallore è o popolo dopo? Ah aspetta eh quella era eh allora quel quel duo andava era eh allora un attimo solo signori noi cerchiamo di rispondere a tutte le domande chiaramente allora la trasmissione te lo posso dire era tutto il calcio patuto per patuto che era praticamente eh che lo presentava Mario Savino e ed era una trasmissione ed era una trasmissione praticamente sul calcio era un quiz e ed erano due attrici una te lo posso dire lui era Guido Palligiano che che credo conoscerà è stato un grande l'altro devo dire la verità non non mi ricordo insomma e facevano e lui faceva quella scena che aveva che le basette insomma qualunque cosa diceva poi eh come si dice a Napoli si ricreava da solo dicendo eh che battute che ho fatto sì uno dei due era Guido Palligiano però eh effettivamente loro lo dicevano questa battuta che squallore o popolo che vuoi l'altro non non mi ricordo adesso abbiamo poi Francesco Palumbo che chiede la battaglia per mandare via Ferlaino ricordate? Sì sì va bene quello là poi si misero eh tutta una serie di di emittenti tra cui c'era il giornalista eh Carlo Alvino più di ogni altro ma ma già all'epoca Mimmo Malfitano tanti altri insomma fecero fecero questa battaglia che tra l'altro eh questa battaglia fu portata avanti anche in alcuni programmi comici noi abbiamo ricordato Tele Garibaldi, Pirati ma c'era una trasmissione ancora più popolare che la conduceva Oscar Di Maio che era Telecafone. Certo sì. Telecafone che pure eh velatamente pur essendo una trasmissione comica eh conduceva questa battaglia contro Ferlaino per per mandarlo via e poi c'era Arigliano che anche Telecafone però ha contribuito nella nella mantenimento della vita dei canali. Sì sì ma poi c'era un'altra trasmissione ancora che era Guerre Ascellari. Guerre Ascellari che la presentava Rutigliano che faceva parte a sua volta di un altro duo storico che erano i Sergenti Assonagli perché oltre a Rutigliano ci stava Benedetto Casillo era un duo i Sergenti, no i Serpenti, i Sergenti. I Sergenti Assonagli. I Sergenti Assonagli che pure conduceva questa battaglia. Guerre Ascellari andava in onda su su Telecafone come Telecafone insomma. Si facevano una specie di eh battaglia di lotta interna in termini di ascolto. Assolutamente c'è infatti Elio Di Maio che adesso sta per introdurre un argomento che sicuramente avremmo trattato cioè penso non dobbiamo dimenticare Filo Diretto con Pierangelo Gregorio. Sì Filo Diretto era una trasmissione la la cui sigla era l'amicizia vuol dire chiamarsi fratelli andare nella stessa direzione. Era una canzone di un cantante misconosciuto che era Herbert Pagani che introduceva questa trasmissione che poi fatta diciamo con mezzi molto semplici perché c'era un cartellone eh all'inizio inquadrato con la scritta Filo Diretto c'era un telefono eh praticamente e la gente praticamente sfogava in questa trasmissione i propri problemi e teniamo conto che qua non era ancora nato Portobello il famoso programma di Re 2 con Enzo Tortora che probabilmente da qui prese spunto perché poi se ti ricordi Portobello la gente andava lì per comprare o vendere qualcosa. Anche questa è stata una trasmissione storica sempre su canale 21 che andava in onda quasi contemporaneamente con il tormentone di Angelo Manna. Non vogliamo ricordare gli anni giusto per dare un periodo storico? Diciamo dal 76 all'82 questo è stato il periodo in cui che era il periodo anche che se qualcuno ricorda la notte quando canale 21 terminava i programmi c'era un rullo che girava in continuazione con scritta macchina sopra i programmi del giorno dopo e diciamo anche questo possiamo considerarlo l'antesignano di quello che sarebbe diventato dopo il televideo. Certo sì. Perché tu oggi se vai su televideo ci sono alcuni canali che ti dicono i programmi che ci saranno oggi o nei prossimi giorni sia sulla RAI che su Mediaset. Anche questo è stato qualcosa di eccezionale. Assolutamente infatti siamo sei antesignani su parecchie cose. C'è un programma che io ricordo benissimo che era c'era questo giornalista che camminava avanti e indietro pieno di libri ed era Luigi Necco. Eh l'emigrante. Conduceva l'emigrante esattamente. Sì sì anche lui e lo diceva apertamente era di destra diciamo lui rispetto a Angelo Manna aveva toni molto molto più pacati diciamo però anche lui diceva la sua contro il sindaco e contro il governo in in generale. Luigi Necco poi aveva fatto tantissima eh gavetta in RAI era un giornalista conosciutissimo diventò famoso soprattutto a novantesimo minuto e quindi naturalmente diciamo comunque le risposte che lui dava alla gente erano comunque più complete e più competenti rispetto a quelle di di Angelo Manna. Un programma veramente interessante nel senso che comunque riusciva a cogliere pienamente l'attenzione del eh dell'ascoltatore faceva anche bei numeri se non sbaglio faceva? Faceva bei numeri poi non era un programma secondario diciamo. Sì diciamo le tv locali hanno degli ascolti bassissimi nel senso che eh un programma viene visto da otto diecimila persone quindi per per rendere meglio il con quanto è seguito un programma oltre all'ascolto che generalmente sulla RAI o su Mediaset noi parliamo di milioni di ascoltatori sulle tv locali parliamo di dieci ventimila vengono date anche i contatti. I contatti sarebbero le persone diverse tra loro che nell'ambito di una trasmissione hanno seguito almeno un minuto del programma quindi se la trasmissione dura trenta minuti quante persone sempre diverse tra loro hanno seguito almeno un minuto e il programma aveva trecento quattrocentomila contatti quindi diciamo eh era un ottimo ascolto se teniamo conto di una tv locale poi diciamo canale nuova anche il privilegio di stare oggi sul digitale terrestre sul dieci quindi in una posizione favorevole rispetto ad altri canali. Senti ci sta però un programma che eh ha fatto eh davvero bei numeri stiamo parlando di almeno un milione eh di persone che ogni sera lo vedevano e le garibaldi. Sì diciamo anche lì si tratta di contatti non non di di spettatori veri e propri anche se poi diciamo il programma riusciva ad arrivare a cento centocinquanta mila spettatori poi sì diciamo c'era un milione di di contatti perché era diventato veramente un un fenomeno e elencarli tutti sarebbe impossibile ma eh voglio ricordare soltanto qualcuno perché all'epoca c'erano dei comici che facevano parte di coppio di tri e poi si sono staccati e quindi diciamo la la coppia o il trio non esiste più ma sono andati avanti da soli per esempio c'era Paolo e Paolo che in realtà poi Paolo Cagliazzo si è staccato e ha continuato la sua carriera artistica da sola. Paolo Cagliazzo è chi fa la capa capa mi non è buona. Poi c'era un trio che si chiamava gli a testa in giù che era composto da Alessandro Siani da Francesco Albanese che tutti chiamavano che è Colecco e poi da Peppe Laurato che poi Peppe Laurato si staccò insieme a Massimo Borrelli formò i due per duo. Esatto sì. Poi c'erano i teandria che anche si sono sciolti ed erano famosi perché uno dei teandria che era eh Rosario Verde faceva Sasa Men. Certo sì. Eh e quindi pure diciamo c'era questo trio che era che era particolarmente famoso e poi c'era un trio che si chiamava Terno Secco dal quale poi si sta con Nello Iorio. Esatto che ancora oggi è che ha proseguito poi da solo diciamo è certo rivedere questi programmi in cui i comici facevano parte di coppie di tri insomma eh c'è tanta nostalgia però diciamo alcuni poi hanno continuato e sono andato avanti e poi c'era la bravissima Loredana Signoli che purtroppo anche lei ci ha lasciato qualche anno fa che faceva se ti ricordi la ragazza insomma che fuori al basso eh telefonava all'amica e c'aveva quel tormentone niente meno niente meno niente di meno insomma era anche quella era qualcosa di di eccezionale e poi Mimma Esposito Mimma Esposito che poi avrebbe fatto molto più teatro e cinema rispetto alla televisione che citofonava che voleva assolutamente entrare e se ci per caso tutte le sue inquadrature erano in bianco e nero sì sì assolutamente in bianco e nero questa è una cosa eccezionale perché era il citofono del palazzo c'erano anche i ditelo voi c'era viaggio di ditelo voi che facevano un personaggio che si chiamava i Lostomos infatti molti molti credevano che il gruppo si chiamasse Lostomos in realtà i ditelo voi che facevano i Lostomos e per anni la gente li chiamava i Lostomos ma in realtà erano i ditelo voi assolutamente assolutamente ma là comunque effettivamente sono nati tantissimi altri personaggi perché quelle le prime due edizioni le hanno condotte Alain De Luca e Lino D'Angio poi la terza e la quarta diciamo quelle che più famose più forti come Ascolti Biagio Izzo e Gianni Simioli e poi la quinta edizione c'erano Gianni Simioli e Alain De Luca e si aggiunse Angelo Di Gennaro si si e poi diciamo dalla sesta edizione in poi c'erano Ciro Ceruti con Ciro Villano e Gerry De Martino io vabbè è inutile che ti adesso ti elenchi tutti i commenti che ci stanno arrivando sui personaggi che hai citato e che oppure che non hai citato per esempio Lino D'Angio con il posteggiatore Veronica che lavorava in De Bors dice Elio Di Bruno. Sì è Rosaria Porcaro sì 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 diciamo questo è diciamo essendo poi telecaribaldi diciamo molto più recente rispetto a quello che dicevamo prima proprio l'alba della televisione locale gli anni settanta e ottanta è chiaro che questa è una trasmissione diciamo molto più recente non solo è rimasta nella memoria collettiva probabilmente la campagna è stata insieme alla Puglia con Telenorba l'unico che produceva questo genere di programmi comici in Puglia Telenorba produceva trasmissioni come Very Strong Family, Il Polpo che era la parodia della piovra da cui sono nati Toti e Tata di cui Toti era Emilio Solfizzi che poi ha fatto tantissime esatto e poi non ci dimentichiamo rispettore coliandro che praticamente il protagonista viene fuori proprio da da telecaribaldi se ti ricordi perché c'era c'era quella famosa scena fuori al liceo Umberto che Gianluca Anzanelli voleva entrare a scuola e il protagonista adesso mi viene il nome del rispettore coliandro gli dice Giampaolo Morelli esatto e probabilmente di tutti quelli di che sono venuti fuori da telecaribaldi Giampaolo Morelli è quello che forse oggi è più conosciuto grazie all'ispettore coliandro e a tante altre fiction che sta facendo molti personaggi io all'epoca non facevo telecaribaldi facevo pirati su su Telenapoli poi molti di noi diciamo sono tornati in auge la gente ci ha rivisto proprio grazie a made in sud certo sì sì senti ma come mai questi programmi comici comunque hanno avuto questo grande successo nelle tv private campane del sud comunque sì perché praticamente non c'era un equivalente a livello a livello nazionale cioè nel senso che noi abbiamo la televisione italiana in generale si è accorto del cabaret soltanto nel 97 con Zellig che se ti ricordi le prime edizioni si chiamavano facciamo cabaret poi dopo tre quattro edizioni ha cominciato a chiamarsi Zellig dal nome del locale dove è partito poi il programma che si trova a Viale Monza a Milano e diciamo che il cabaret è arrivato proprio tardi in Italia anche negli anni 50 e 60 si chiamava ancora van spettacolo non è che si chiamasse proprio cabaret come lo intendiamo noi oggi e quindi diciamo per chi seguiva questi programmi da casa era una vera e propria novità era un vero e proprio boom visto che nella RAI né Mediaset si occupavano di questo genere di programmi e su questo dobbiamo dare merito a Enzo Coppola che poi ideò Telecaribaldi su Canale 9 Enzo Coppola che sta ancora a Canale 9 lavora ancora per Canale 9 senti ci sono ad esempio c'è un commento dedicato a te Elio Di Mauro dopo ci fu Avanzi Popolo dove ho conosciuto Vincenzo Vischetti con il professor di Napoletano pavì 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 quello è un classico quello è io diciamo che sono stato insieme ad Antonio e Michele te li ricorderai Antonio e Michele ti ricordi? sì certo certo io e Antonio e Michele siamo stati i primi a fare zeli che mi chiesero questo pezzo sulla grammatica napoletana e e io praticamente notai che in napoletano per la strada di pavia pago io si dice pavì e pavì e pavì e quindi diciamo è diventata una specie di tormentato penso che qualcuno scaricò questo audio e solo audio su su youtube e fece in pochi giorni 700.000 visualizzazioni che detto oggi 700.000 visualizzazioni non sono niente ma tu immagina youtube nel 2005 c'era una piattaforma appena nata quindi era anche youtube era una novità 700.000 visualizzazioni equivalgono praticamente a 7 8 milioni di visualizzazioni oggi insomma oggi diciamo youtube tutti la conoscono e e quindi è facile fare milioni di visualizzazioni ma all'epoca nel 2005 fare 700.000 visualizzazioni con uno sketch era qualcosa di eccezionale insomma infatti sì assolutamente onore senti ma c'è un programma che però anche ha cambiato il l'ironia napoletana perché dobbiamo ammetterlo che il ruolo di toni tamaro nella televisione campana è stato molto pesante infatti lui conduceva un programma che si chiamava tamar radio ce ne puoi parlare un po' si tamar radio che poi in realtà tamar radio iniziò non in televisione ma in radio cioè lo trasmetteva radio marte e poi successivamente si trasferì in televisione su canale 9 tamar radio poi aveva diciamo alla base la stessa idea di telegaribaldi cioè telegaribaldi se tutti ricordi era un emittente pirata che si metteva sulle frequenze di canale 9 occupava tamar radio era la stessa cosa cioè tamar radio trasmetteva da uno scantinato e lui trasmetteva lui lo diceva proprio io sto trasmettendo da una fogna manco da uno scantinato e toni tamaro che che poi lui ha all'anagrafe si chiama vincenzo sarnelli che che però non è assolutamente eh parente di di monica sarnelli e toni tamaro trasmetteva questo programma in cui c'erano queste trasmissioni queste canzoni le più famose se ti ricordi era chiappa peppa chiappa peppa se ne faiuto che ma e poi naturalmente diciamo c'era come si chiamava la la reginetta di baia domizia patrizia esattamente patrizia la reginetta di baia domizia esatto esatto secondo me stiamo facendo commuovere molti degli utenti che ci stanno guardando con tutti questi si ricorderanno insomma di di queste trasmissioni diciamo quelle là che abbiamo eh parlato prima perché poi le tv locale all'inizio ma anche in tempi più recenti c'erano anche i famosi maghi che praticamente predicevano il futuro c'era la gara uena c'era Gennaro D'Auria che praticamente non solo ma dava anche dei consigli rimproverava prendendo le propria malaparola i i telespettatori che chiamavano anche lui era qualcosa di di eccezionale di geniale ma al tempo stesso qualcosa di di unico lui ancora oggi trasmette per radio sulle frequenze di radio Camaldo l'istereo bello questo questo è una radio Camaldo l'istereo insomma è dalla collina dei Capaldoli eccezionale senti c'è Elio Di Mauro che dice le telecronache di Gianni Castelluccio con il tiro alle viva il parroco sì no devo dire da questa non me la ricordo sta questa questa trasmissione ma ma anche le telecronache le telecronache di molte partite trasmesse dalle emittenti locali campane e erano qualcosa di di eccezionale non solo perché molti telecronisti sbagliavano i nomi dei calciatori e si usavano molto spesso parole che in italiano non esistevano e diciamo poi molte di queste poi furono utilizzate dalla Gialappas per il programma a mai dire gol ecco che andava in onda su Italia 1 quando lo presentavano programma lo sappiamo tutti c'è il Mago Forrest Simona Ventura Alessia Marcuzzi Claudio Lippi e poi Ellen Hiding che non so se la carfina ha fatto ci sta Laura Teresa che dice Radio Camaldo l'istereo è la sua di proprietà è proprio sua sì proprio sua lei è la moglie di Lello dei ditelo voi lei è la moglie di Lello dei ditelo voi che meraviglia io ho un vecchissimo sorrisi e canzoni in cui lei addirittura insieme ad altre ragazze che facevano le ballerine in uno storico programma televisivo sta in copertina adesso diciamo pure il programma tanto la qual era il bagaglino il bagaglino ecco scusami non me lo ricordavo e lei è riuscita lei è stata l'unica che è riuscita dove tutti noi comici abbiamo fallito lei è riuscita ad avere la copertina di sorrisi e canzoni nessuno di noi ci è riuscita questo è stato sempre il sogno della mia vita ho 50 anni di sorrisi e canzoni in deposito ma io vengo soltanto citato qualche volta quando facevo bulldozer esatto è vero bulldozer sempre Rai 2 sempre Rai 2 presentavo Federica Panicucci con Dario Vergassola e anche lì andammo io Paolo Cajaz Antonio di Antonio e Michele molti di noi insomma è stata insieme a Zelic una delle primissime trasmissioni che noi comici e cabarettisti abbiamo fatto a livello nazionale poi Dario Vergassola fu sostituito eh da Enrico Bertolino allora ehm c'è aspetta è lo di Mauro che chiede il che dice il cavaliere e il maresciallo il maresciallo gol di notte mitica nottata del primo scudetto sì che poi gol di notte non vorrei sbagliarmi ma lo presentava Michele Plastino che sappiamo tutti è un tifosissimo della Lazio però naturalmente gli fu data questa questa trasmissione tra le trasmissioni sportive ricordiamo diciamo una delle prime fu proprio number one che poi successivamente si chiamò number two che presentava Roberto D'Antonio te lo ricordi e come eh Valletta aspetta ci stava eh Barbara aiutami no 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 non ricordo il nome della lametta aspetta ma mi devo mi devo ricordare aspetta Barbara no che se la dobbiamo ricordare perché è famosa Barbara Chiappini Barbara Chiappini cioè Barbara Chiappini che non me la sarei mai ricordata però sì sì assurda Barbara Chiappini diciamo che già all'epoca era famosa come attrice sarebbe un po' la diletta leotta di oggi esattamente esattamente senti allora eh tra io dovete sapere cari ascoltatori che eh prima di una diretta io chiedo alcune volte ai eh miei ospiti di inviarmi un una serie di eh un elenco di argomenti che avrebbero piacere da trattare e cercando appunto di inserirle in mezzo a tutte le domande e gli argomenti che anche io eh vorrei chiedere ehm Enzo Fischetti mi ha mandato come ultimo punto un un argomento del quale mi ha mandato mi ha lasciato un attimo nel panico perché mi ha lasciato come ultimo punto i film con Pino Mauro sì il film con Pino Mauro allora c'è da dire una cosa in Italia c'è c'è una legge perché c'è stato un momento nella storia delle tv locali che tutte le emittenti mandavano i film di Pino Mauro per un motivo molto semplice perché mentre diciamo nell'ambito musicale una canzone dopo cinquant' anni eh non bisogna più pagare i diritti non bisogna più pagare la CIA perché diventa di dominio pubblico nel cinema è diverso un film diventa di dominio pubblico dopo vent'anni le tv locali canale ventuno canale nove tutte queste eh canale otto e telecapri non avendo molti soldi che cosa succedeva per non pagare i diritti della CIA e mandavano in onda dei film vecchi e mandavano in onda quasi contemporaneamente tutti i film di Pino Mauro che lui aveva girato vent'anni prima attenzione noi parliamo di vent'anni prima parta partendo dal millenovecentottanta non da oggi quindi praticamente erano tutti i film degli anni sessanta e tu vedevi Pino Mauro che stava su tutte le tv locali contemporaneamente fu praticamente per lui un motivo di orgoglio perché finalmente eh qualcuno eh si era ricordato vent'anni dopo di questo grandissimo eh di questo grandissimo artista certo assolutamente è un più che altro vedere eh Pino Mauro in tante versioni contemporaneamente prima con i capelli in un certo modo poi con i capelli un po' ma guarda che la stessa cosa la stessa cosa sta succedendo oggi se ci fai caso con Salda Vinci perché mandando in onda i film del padre tu lo rivedi quando era proprio bambino quando aveva dieci anni e ed era proprio un bambino e e già da lì si vedeva che sarebbe stato un grandissimo attore un grandissimo cantante anche il padre di Salda Vinci effettivamente ha avuto un grosso ruolo nella tv eh regionale più che altro sì 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 anche lui era ospite di di tante trasmissioni una delle quali famosa era di telestudio cinquanta che era la torre la mela e il primo bacio forse diciamo il primo programma il primo varietà il primo programma di intrattenimento vero e proprio che fu fatto da una televisione locale prima ancora di tutto il calcio patuto per patuto sì sì assolutamente c'è una riflessione a tutto ciò c'è ehm Elio Di Mauro che dice Roberto D'Antonio fece pure una trasmissione politica su Tele Napoli trentaquattro sì lui sì ogni volta che c'era diciamo c'erano delle elezioni e quando elezioni quando si eleggeva il il nuovo sindaco e o per esempio il le elezioni regionali lui faceva queste trasmissioni politiche in diretta in cui c'erano eh degli ospiti qualcuno ha partecipato anch'io e leggevamo i titoli dei giornali con Samuele Ciambriello bellissimo sei andato proprio dei ricordi Samuele penso te lo ricordi sì sì assolutamente lui ancora oggi diciamo anche se si è dedicato molto più alla politica che alla televisione ma anche lui in passato ha dato un contributo notevole assolutamente assolutamente senti Enzo io volevo terminare questa eh diretta con una piccola chicca su di te eh ovvero che ci racconti del tuo eh della tua attività arbitrale ma che dire io ho fatto l'arbitro per 18 anni eh dall'81 al 99 e sono partito dall'ultima serie tutti gli arbitri partono da lì insomma dalla terza categoria poi seconda prima categoria promozione eccellenza io l'ultimo anno ho arbitrato la serie D che all'epoca si chiamava interregionale e quindi ti lascio immaginare insomma quelle che succedeva su su questi campi e giocatori che venivano espulsi e mentre andavano via tornavano indietro e facevano no ma i taggia vatter i compagni di squadra lo mantenevano altro giocatore che dopo essere stato espulso mi ha spaccato cartellina e me l'ha buttato in faccia io ho detto va bene io ho espresso il mio parere lei ha espresso il suo credo che prevalga il suo può restare e rimane e lui rimaneva una volta dovevo fischiare la fine di una partita un giocatore mi afferro il braccio e disse ma che fai fischi ma non vedi che stiamo perdendo e quando è il momento te lo diciamo noi e praticamente una partita iniziata alle 10 e 30 del mattino di giuro stavo scurando notte noi giocavamo ancora quella partita non è mai finita io li ho lasciati là che giocavano no ma tu non puoi avere idea insomma che succedeva su questi campi regionali con i giocatori che non portavano proprio dell'arbitro e capite quindi una volta arrivai in un campo dove il custode disarbitro scusate se non ci sta il gabinetto ma l'ha rotto l'arbitro domenica scorso quando l'abbiamo buttata che ha testa dentro e quindi questo diciamo era proprio un avvertimento come per dire fai vincere la squadra di casa se no non esci vivo e quindi quindi figurati insomma quella che succedeva e poi diciamo voglio aggiungere solo un'altra cosa che se dal punto di vista arbitrale non sono stato fortunato non sono stato fortunato neanche dal punto di vista lavorativo perché io lavoro all'ASL e lavoro in un centro di salute mentale e lì ho capito che a me solo l'amo potevano mandare in un centro di salute mentale a Ponticelli in una strada che quando la realtà supera la fantasia come nome si chiama via Walt Disney ah e quindi scusa questa questa tua attività a Ponticelli come sta andando tutto bene? No no diciamo tutto bene insomma anzi devo dire la verità fortunatamente in un periodo in cui è tutto fermo io stavo facendo la teatrale con Salda Vinci la fabbrica dei sogni in cui c'erano anche Ciro Villano Ettore Massa Fatima eccetera il figlio di Salda Vinci Francesco purtroppo ci siamo fermati e cabaret non ne stiamo facendo più insomma siamo riusciti bene o male a fare sei puntate di Made in Sud l'anno scorso tra tra giugno e luglio però spettacoli in piazza non se ne fanno non si fanno nei locali non si fanno feste private i teatri stanno chiusi e quindi molti dicono beato a te che ti hanno stipendi e l'asl eh come chissà che stipendi e l'asl fossero milioni di euro che non erano milioni quando ci stava a dire quindi figurati vabbè dai facciamoci una puntata sopra no no non voglio rattristare anzi è stata veramente una bella una bella una bella chiacchierata insomma abbiamo parlato eh delle tv locali dalle origini fino fino ai giorni nostri insomma eh come ultima un'ultima cosa che possiamo dire è una cosa proprio recentissima non so se ci fai caso quando gioca il Napoli calcio tutte le emittenti locali si collegano eh però tu vedi gente in studio chi non c'ha sky e non vede la partita vedi queste persone in studio che loro si vedono alla partita e c'è c'è fatto caso e e qualcosa che gli altri si vedono esatto e ed è e l'invidia aumenta perché dice vado a chi li stanno vedendo la partita e mi fanno vedere persone che se vedono la partita io da casa non la posso vedere e sotto c'è diciamo il famoso sottopaggia con il risultato praticamente che cosa sta facendo in Napoli con tv luna con lucio pierri ma anche canale otto anche canale nove da milano molto spesso trasmettono la partita del Napoli da studio e quindi tu vedi queste persone che vedono la partita ma tu non puoi vederla sì è verissimo e la rabbia aumenta come 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 quel fenomeno che adesso tu vedi gli altri che giocano no che fanno i videogiochi eh online su youtube di video e tu vedi gli altri che giocano e tu guardi gli altri esatto passivamente esattamente esattamente senti Vincenzo è stato un un piacere e grazie per questo tuffo nel passato perché anche queste sono storie di Napoli perché molto spesso si raccontano tante cose forse diciamo anche più serie culturalmente parlando più importanti però è anche bene ricordare queste cose che sembrano cose minori ma in realtà tendono a dimostrare che ancora una volta Napoli anche nell'ambito dell'emittenza locale è stata qualcosa di originale e di unica in Italia assolutamente noi abbiamo tutto qui archiviato se permetti lo faccio vedere con le mie eh tredicimila videocassette i miei sei mila dvd e ovviamente diciamo qua da questo lato c'ho più di cento eh libri che parlano dell'architettura e della storia di Napoli bellissimo bellissimo poi un giorno casomai se ci inviti veniamo a vedere questa telecamera come esatto come fece una volta Raul eh penso che lo conosci di eh no? Raul chi è? Eh uno è uno speaker di Radio Kis Kis. Ah Raul è il speaker? Eh sì sì lui ha l'anagrafe sembra che sia Luigi De Rosa però diciamo è Raul che venne a casa a fare proprio un servizio la trasmissione si parlava contro luce e in cui fecero vedere praticamente tutto tutti i libri e le videocassette che io avevo archiviato negli anni. Che grande top bellissimo penso veramente eh emozionante stare a parlare con te di queste cose perché veramente si vede la passione e l'amore con cui eh che che mi hai cura di queste di questi argomenti quindi complimenti a te e grazie per essere stato nostro ospite davvero. Grazie a voi e a proposito di Roberto D'Antonio l'ultima cosa che volevo far vedere era non è pubblicità assolutamente questo suo libro visto che noi abbiamo parlato di tv locali lui ha scritto un libro un libro Roberto D'Antonio che si chiama il crepuscolo delle antenne 40 anni di televisione a Napoli in cui lui praticamente fa capire che oggi con il digitale l'alta definizione e tra poco tra l'altro dovremo anche cambiare i televisori perché c'è il dvt2 e quindi dobbiamo pure cambiare televisione tra poco eh le televisioni locali sono praticamente eh scomparse o comunque hanno un seguito nettamente minore rispetto al passato quindi secondo me è stato giusto oggi ricordarle. Bene chi per chi fosse interessato consigliamo eh Enzo Vischetti consiglia questo libro il credito. No no ma non è ti ripeto non è pubblicità figurati soltanto no perché non l'ho scritto neanche io quindi figurati proprio questi libri praticamente uno è il mucchio selvaggio che parla dell'inizio della delle tv locali eh scritto proprio da Piccinini il giornalista di Italia 1 che si occupa di sport e quest'altro che invece al contrario parla del crepuscolo delle tv locali di Roberto D'Antonio sono due libri molto interessanti. Guarda c'è un commento finale con cui voglio chiuderti questa diretta anche se non conosco nessuno dei personaggi citati per motivi regionali è sempre interessante ascoltarvi quindi siamo riusciti a trasmettere almeno anche un po' di amore per la nostra città eh anche attraverso un argomento come questo ostico come questo. Sono felice per questo grazie. Va bene Enzo là ti auguriamo una buona domenica. Buona domenica. Grazie e non dimentichiamoci una cosa che oggi come ogni anno il trentuno gennaio oltre a essere San Giovanni Bosco e anche San Ciro e quindi. Ecco. Dobbiamo fare gli auguri perché Napoli è piena di Ciro quindi. Assolutamente. Anche a loro. Auguri a tutti Ciro. Buona domenica a tutti. Grazie. Grazie a tutti quelli che hanno seguito. Grazie a te. Ci vediamo giovedì appuntamento col professor Greco e domenica prossima come sempre. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.